L'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuffo e il sindaco di Rapolano Terme Alessandro Starnini hanno firmato nella sede della presidenza della regione toscana a Firenze un protocollo d'intesa per riqualificare e rendere attrattiva per gli investimenti l'area produttiva del Sentino, dove si concentra un'attività industriale avanzata nei campi agroalimentare, farmaceutico, biotecnologico e aerospaziale. Il progetto che il comune di Rapolano Terme ci presenta sostiene il processo di riqualificazione dell'area industriale di Sentino. Lo fa con un approccio che condividiamo, riqualificazione di un'area già destinata all'attività produttiva, sua messa in sicurezza, un'ulteriore espansione, riqualificazione dei servizi. Dopo la firma, la regione si impegna a trovare linee di finanziamento per favorire nuovi insediamenti produttivi nell'area del Sentino, strategica anche geograficamente per i collegamenti con Siena, Firenze, Arezzo e la Val di Chiana. Ci saranno interventi di riqualificazione generale nelle infrastrutture, nel risolvere ultimi problemi, perché in parte li abbiamo risolti noi riguardo all'assetto idraulico dell'area. Vedremo con risorse regionali, anche con nostre risorse, di valorizzare l'approvvigionamento energetico dell'area, ulteriori interventi per diffondere l'utilizzazione della fibra e ulteriori azioni per la promozione anche di quest'area come un'area in cui si investe con facilità. Grazie a tutti.